Il Parma si gode la bella domenica di sole, i tre punti portati a casa da Fano, mentre gli acciaccati stanno cercando di recuperare, ovvero Garufo, Guazzo, Benassi e Mastai. Siamo con Giorgino, anche lui si gode questi tre punti, un punto dalla vetta, il Parma giocherà così così, ma intanto è lì. Ma sì, intanto siamo lì, è quello che conta. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, siamo riusciti a portare a casa i tre punti ed avvicinarci ancora di più alla prima in classifica. Era il nostro obiettivo e l'abbiamo raggiunto. Poi per quanto riguarda gli infortunati e il resto speriamo di recuperare tutti nel più breve tempo possibile per avere la rosa al massimo. Senti, nelle note positive di ieri c'è stato finalmente l'approccio completo alla partita, insomma, eravate sul pezzo dal primo al novantesimo minuto e poi la corsa fino alla fine, tant'è che l'ultima mezz'ora avete dominato il fan. Ma l'approccio, come tutta la durata della gara, è stato affrontato penso nel migliore di modi dalla squadra. Eravamo molto concentrati, sapevamo quello che dovevamo fare e quello che volevamo fare, specialmente. Per quanto riguarda la condizione fisica, penso che fino ad ora non ci siano stati problemi, anche perché se andiamo ad analizzare tutte le partite, vediamo che tutte le squadre partono forte contro di noi, sparano tutto nel primo tempo e poi nella ripresa calano vistosamente. Noi, per fortuna, riusciamo a tenere per tutti i 90 minuti e infatti ieri siamo riusciti a sbloccare il risultato nel finale e in altre circostanze abbiamo ribaltato delle situazioni scomode. Nel secondo tempo, credendoci fino alla fine, quindi non penso che sia un problema fisico della squadra, che ha dimostrato in diverse circostanze di non avere, anzi, di sfruttare la propria forza fisica fino alla fine. Senti, si parla molto anche del cinismo del pari, qualcuno invece parla di fortuna, tu da che parte stai? Io parlo della parte del cinismo, perché la fortuna è ben altra cosa, la fortuna si va a cercare prima di tutto, perché non viene da sola. La squadra è stata compatta, aveva le idee ben chiare della partita da fare, l'abbiamo fatta. A mio parere ci sono stati dei miglioramenti con fronte ad altre partite, ieri ad esempio abbiamo visto molti meno lanci lunghi con fronte ad altre circostanze, abbiamo visto una squadra compatta tra i reparti e comunque non abbiamo concesso nulla se non il primo minuto una spizzata di Gucci per Masini. Per il resto non penso che il Fano abbia fatto chissà cosa, oppure il Fano era stato elogiato per la vittoria in casa contro il Padova a 3-0 e per il 0-0 strappato contro il Ferralpi Salò. Quindi penso che andare a vincere a Fano non sia una cosa semplice, né tantomeno da ritenere facile. Quindi i nostri tre punti guadagnati a Fano sicuramente sono tre punti pesanti. C'è stato anche un cambio a centrocampo, nel senso un cambio, come dire, a gravati più stretti. Magari Scavone ha fatto meno inserimenti, forse anche Corri, anche se poi è stato lì che ha fatto male. Io penso che di partita in partita ci siano degli avversari con caratteristiche diverse. È normale, il mister valuta di settimana in settimana la squadra da proporre in campo. Ieri ha proposto me, Ciccio e Scavone, abbiamo cercato di fare al meglio quello che avevamo provato in settimana. Penso che ci siano riusciti e siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Naturalmente è un piccolo passo, dobbiamo migliorare in tante circostanze. Sappiamo quali sono attualmente i nostri limiti e lavoreremo per migliorarci. Però dobbiamo ripartire sicuramente dalle certezze che abbiamo ritrovato in queste due partite. La solidità difensiva, la compattezza di squadra e l'atteggiamento. Il gioco, come vi ripeto, sento sempre parlare di brutto gioco da parte del Parma, non un gioco stellare né calcio a champagne. Sinceramente questa squadra forse per ora non è capace di fare il calcio a champagne, forse non lo sarà mai. Però abbiamo delle caratteristiche che noi dobbiamo mettere in campo, dobbiamo fare in massimo con quelle caratteristiche. Se siamo una squadra che vince la partita 1-0, speriamo di vincerele tutti 1-0. Però il segnale che abbiamo dato ieri sera sicuramente è un segnale di una squadra matura, una squadra che sta costruendo qualcosa di importante e che sta recuperando le certezze che magari aveva smarrito fino ad ora. Però, mi ripeto, io vedo soltanto del positivo da ieri e non del negativo, come tra l'altro dalle altre partite, perché alla fine dei conti ciò che conta sono i tre punti. Fino ad ora abbiamo fatto tre partite, tre vittore, contro degli avversari che all'inizio sulla carta erano considerati spacciati. Però abbiamo visto anche ieri sera che il Teramo è andato a vincere 5-1 a Gubbio. Quindi non c'è nulla di scontato in questo campionato, bisogna avere rispetto per tutti, bisogna essere consoni delle proprie qualità e metterle in campo domenica dopo domenica. Senti, può essere questa la partita della svolta? Cioè, in voi è maturata questa consapevolezza di essere davvero cresciuti e di mantenere questo passo, anche se magari non si gioca bene? Ma non so, io non parlerei di svolta, perché comunque, come ho detto prima, i risultati sono venuti anche nelle altre partite. Quindi svolta, secondo me, è una parola non proprio azzeccata. Diciamo che siamo in un processo di crescita e bisogna, come ho detto prima, ripartire dalle consapevolezze che ha la squadra. Dalla forza, dai punti di forza, no? Nelle prime giornate non prendevamo gol. Per fortuna, grazie alla qualità anche degli attaccanti che abbiamo, prima o poi la partita, in tante circostanze, l'abbiamo sbloccata magari su delle giocate del singolo. Quindi, però, dobbiamo ripartire da questo, buttandoci dentro tanto lavoro per cercare di arrivare al gol con una manovra offensiva corale da parte di tutta la squadra. Lavoreremo giorno dopo giorno, però non vedo la situazione così drammatica come magari si è venuta a creare intorno alla squadra ultimamente. Parla di svolta perché comunque prima, anche giocando male, Parma soffriva parecchio le iniziative di avversari ieri. Praticamente non avete concesso nulla, come dicevi tu. No, 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 sì, 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 ma l'ho detto prima, svolta magari non è, secondo me, la parola giusta. Forse abbiamo riacquisito la solidità che avevamo perso in queste partite. Tu ieri avevi un compito preciso, magari, forse mi sbaglio, ma accorciare le parti, combattere il centrocampo e cercare anche magari di impostare. Come ti sei trovato in questa posizione? Perché di solito ci hai sempre giocato, anche l'anno scorso, però... No, no, giocare davanti alla difesa, diciamo, l'ho sempre fatto anche in passato, sin da ragazzino, quindi mi trovo a mio agio. Naturalmente ognuno di noi ha delle proprie caratteristiche. Magari quando Ciccio gioca davanti alla difesa ha caratteristiche completamente diverse da me. Naturalmente ieri c'era da stare lì compatti, come avevamo detto, e di cercare di recuperare palla e ripartire velocemente. Penso che la squadra l'abbia fatto bene e valuto la prova della squadra positiva. Il fatto che comunque si fatichi a creare occasione da gol, come dicevamo, vi preoccupa oppure no? Perché a quanto pare no, penso di no, perché vincere 1-0 è bello sempre, però magari a fronte delle occasioni create stride un attimo. Come vi ponete sotto questo? No, no, deve essere uno stimolo per noi, non deve essere un motivo per il quale la squadra ha bisogno, deve subire tutto ciò. Deve essere uno stimolo a migliorarci e a lavorare giorno dopo giorno per cercare di creare il più possibile, e di concretizzare il più possibile. Poi la domenica ci sono anche gli avversari, quindi gli avversari lo sappiamo benissimo, quando incontrano il Parma fanno la partita della vita. Se analizziamo il Ferraro Pesalò, è venuto qui, ha fatto una grandissima partita, lo abbiamo ammesso tutti, e se andiamo ad analizzare le partite che ha fatto dopo, non ha più vinto. perché tutte le squadre spregono tantissime energie, sia fisiche che mentali, contro di noi. E noi lo sappiamo. Appunto per questo, nelle ultime uscite, abbiamo visto che nel primo tempo gli avversari davano il massimo, e poi nella ripresa gradualmente calavano. Come è successo a Forlì, il Forlì, ultimo in classifica, ha fatto un primo tempo, sotto il punto di vista di intensità, è importante, poi è crollato. Il Mantua stesso, non ha spinto più di tanto, e ieri abbiamo visto che comunque loro, nonostante non abbiano creato chissà cosa, il primo tempo, abbiano retto un po' di più lo scontro, ma poi nel secondo tempo abbiamo avuto la meglio, quindi dobbiamo essere bravi anche in quello, nella gestione della gara, sapendo gestire i momenti della partita. Senti, mi sembra che tu abbia detto, poi in sostanza, attenzione perché un Parma stellare sarà difficile da vedere, che è quello che divide un po' i tifosi, qualcuno fisca, in questo momento siamo questi, però stellare, io non so cosa la gente offre, 5-10 occasioni da gol, ma se ne andiamo a realizzare, contro la Pinole Reffa abbiamo vinto 1-0, ci sono state critiche, abbiamo avuto 10 occasioni da gol, quindi stiamo a parlare del nulla, la verità è che partite come l'anno scorso, che si vincevano 5-0, quest'anno è difficile da vedere, perché le squadre sono organizzate, perché il livello è cresciuto, poi, ripeto, noi sappiamo la squadra che siamo, sappiamo le caratteristiche che abbiamo, e dobbiamo lavorare in base a quello, perché abbiamo un obiettivo, vogliamo raggiungerlo con tutte le nostre forze, ed è inutile mettere in campo delle armi, che non sono consone alle qualità della squadra, quindi la squadra ha determinate caratteristiche, ed è giusto che lavori su quelle caratteristiche, e faccia prevalere quelle caratteristiche, per conquistare i tre punti, per arrivare all'obiettivo. Grazie a tutti,